E' stato rimesso in libertà il 17enne sospettato di aver usato lo spray urticante che avrebbe provocato il fuggifuggi e poi la calca all'uscita della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in cui sono morte sei persone. Il ragazzo fermato per una vicenda di droga è comparso oggi davanti al GIP del Tribunale Minorile di Ancona che ne ha convalidato l'arresto ma ha messo in libertà l'adolescente perché non c'erano i presupposti per la custodia cautelare. Il ragazzo è indagato a piede libero per omicidio preterintenzionale, lesioni dolose e lesioni colpose per i fatti della discoteca avvenuti nella notte tra il 7 e l'8 dicembre. Tre ragazzi che si trovavano nel locale lo hanno riconosciuto, anche se in maniera piuttosto generica, come l'autore degli spruzzi di spray al peperoncino. Il giorno dopo è stato trovato in un appartamento in un residente in Senigallia con due adulti ed oltre 200 grammi di droga ed era finito nel centro di accoglienza della procura minorile, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Oggi la decisione del GIP Paola Mureddu. Mentre i due adulti hanno dichiarato di essere strane alla vicenda di Corinaldo, lo hanno detto ai loro avvocati Nicolò Mattioli, 27 anni, e Federico Pellicani, di 22. Nell'appartamento erano stati trovati 200 grammi di droga tra ascice e cocaina e per questo i due sono comparsi oggi davanti al GIP del Tribunale di Ancona che ne ha convalidato gli arresti. Sul fronte sanitario invece continuano a migliorare le condizioni dei sette ricoverati al Torrette di Ancona che seguono ognuno di loro un protocollo terapeutico diverso in base alle loro singole condizioni. La direzione sanitaria ha fatto sapere che tre pazienti sono al momento ancora presso le terapie intensive di cui uno ancora intubato mentre due respirano autonomamente. Uno di essi sta inoltre per essere trasferito in un reparto per acuti e per tutti e tre però la prognosi è ancora riservata. Mentre per gli altri quattro pazienti che sono stati trasferiti nei reparti per acuti e per tre di loro è già stata sciolta la prognosi che invece rimane riservata per uno di loro. Ancora da stabilire le date dei funerali delle vittime. Nella giornata di oggi sono iniziate le prime autopsie al termine delle quali verrà poi dato il nulla a osta e le salme così messe a disposizione delle famiglie per disporre dei funerali.